Musica Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi La Linea. Martedì è il giorno in cui si riunisce la giunta comunale di Udine. Allora per tutte le novità ci colleghiamo in diretta con la nostra Isabella Gregorato che ha seguito per la conferenza stampa. A te La Linea. Grazie Alexis. Un saluto ai nostri amici telespettatori. La conferenza stampa di giunta è appena cominciata e vedo che le persone sono piuttosto emozionate all'interno dell'aula consigliare perché oggi la giunta ha approvato il progetto di fattibilità di Palazzo D'Aronco. Quindi c'è grande emozione, siamo con il sindaco Pietro Fontanini. Grande emozione perché è un progetto di oltre 2 milioni di euro e tra l'altro il palazzo verrà completamente ristrutturato. Dal tetto, pareti, anche gli stessi infissi. Sì, un grande lavoro questo palazzo voluto dall'architetto D'Aronco che è sede del comune. Ormai ha quasi cent'anni perché è stato inaugurato nel 1930, però ha iniziato la costruzione negli anni 20 e quindi proprio sono cent'anni da quando hanno iniziato a lavorare. È venuta l'ora di dargli una pulita alle facciate e soprattutto restaurare le facciate perché ci sono tanti freggi, tante sculture che compongono questo bellissimo palazzo. Non solo, dovremo anche intervenire sugli infissi, sulle finestre in particolare, renderle più resistenti alle sbalze delle temperature sia d'estate che d'inverno. E quindi anche lì faremo un lavoro molto molto importante. Poi c'è qualcosa sul tetto e anche sui porticati. Quindi un grosso lavoro perché la cifra supera i 2 milioni di euro. Adesso siamo nel preliminare, ma probabilmente non ci discosteremo molto da queste cifre. È un impegno per l'amministrazione, ma penso che sia una soddisfazione per i cittadini di Udine rivedere questo palazzo nel suo splendore. Perché è un'opera veramente unica, voluta da questo grandissimo architetto, con uno stile molto particolare del Liberty. E quindi noi abbiamo il dovere di preservare questo monumento e anche di fare quella manutenzione che è doverosa dopo quasi cent'anni di vita di questo palazzo comunale. In effetti, proprio per dirlo, per informare i nostri telespettatori, entrando oggi in sala consigliare, si respirava questa aria di grande soddisfazione, di grande emozione, perché si affronta un lavoro importante. Si affronta il lavoro di recupero del simbolo praticamente di Udine e del Friuli, essendo Udine capologo del Friuli. Sì, è un simbolo importante. Noi abbiamo già realizzato un grande lavoro nel castello di Udine, che l'abbiamo riportato nel suo splendore, proprio lavorando sulle facciate. La stessa cosa dobbiamo farlo qui, su questo palazzo che è al centro, insomma, si affaccia su Piazza Libertà. E tutti lo vedono, sia gli udinesi che anche i turisti che vengono a Udine. Purtroppo ci sono alcuni lati che dimostrano, insomma, che sono passati tanti anni e quindi bisogna mettere mano, bisogna rinfrescare, bisogna restaurare quello che va restaurato. Abbiamo già ottenuto dalla sovrintendenza grandi suggerimenti, grande attenzione, continueranno, perché questo è un monumento tutelato, è un bene architettonico, storico e quindi i lavori dovranno essere fatti seguendo le regole precise che la sovrintendenza prescrive. Quindi siamo contenti, adesso andremo al progetto definitivo e poi all'appalto. E io spero che con il prossimo anno inizieranno i lavori per terminare proprio nel 22, a quasi cent'anni dalla fine di quanto costruì l'architetto da Ronco. Quindi lei pensa che entro la fine del prossimo anno i lavori siano ultimati, quindi appaltato, fatto tutto, superati i interburocrati? Sì, sono sicuro di questo, anche perché abbiamo delle ottime ditte che operano sul nostro territorio e quindi abbiamo le maestranze, come si dice, la capacità di fare un bel lavoro e quindi si tratta proprio di andare avanti rapidamente e riportare Palazzo da Ronco al suo splendore originario. Ecco, un'ultima cosa in chiusura appunto di collegamento. Il Sindaco ci teneva anche a dire che questa è una nota di servizio, è una comunicazione per i cittadini, che intendete dare la possibilità di accendere il riscaldamento? Sì, vogliamo anticipare l'accensione del riscaldamento che scatta col 15 di questo mese e vorremmo anticipare in questi giorni. Oggi sto vedendo di predisporre proprio che magari a partire da domani si possano accendere i termosifoni in città, perché le temperature sono abbastanza rigide. Bene, ringraziamo il Sindaco di Udine Pietro Fontanini per il momento qui da Palazzo da Ronco è tutto. Restituisco alla linea, ci vediamo dopo. Bene, grazie Isabella Gregoratto e al Sindaco di Udine Pietro Fontanini per questo primo collegamento in diretta da Udine. Ora ci colleghiamo invece con la nostra Paola Treppo che si trova a Tarcento per presentare la nuova giunta guidata dal rieletto Sindaco. Mauro Steccati, a te la linea. Sì, eccoci, siamo di fronte agli uffici municipali del Comune di Tarcento, la Perla del Friuli, con il rieletto Sindaco Mauro Steccati. Quindi in continuità ci facciamo dire subito come sono andate le consultazioni interne del gruppo per poi arrivare alla giunta. Buongiorno, signor Sindaco. Buongiorno, sì, è stata una grande soddisfazione questa riconferma. La riconferma è sempre una cosa molto più difficile che una prima volta e per noi è stata una grande soddisfazione. Ha pagato il lavoro che abbiamo fatto, il lavoro che abbiamo svolto, il lavoro di squadra che riguarda tutti, il lavoro che ha visto tenere i conti in ordine, fare oltre 10 milioni di investimento in 5 anni, non accendere i mutui e ridurre il debito di oltre il 35%. Ecco, effettivamente Tarcento ha avuto sempre negli anni, negli ultimi anni, il problema dell'indebitamento per anche rinegoziazione di mutui che sono arrivati in alcuni anni anche fino al 2030. Parliamo naturalmente di qualche decina di anni fa, di vent'anni fa circa. Certamente, queste sono scelte che noi rispettiamo, ma sono scelte di altri tempi. Noi abbiamo scelto, coesi, tutta la maggioranza coesa, di non accendere i mutui e non rinegoziare i mutui. E questo siamo riusciti a fare in questo mandato e la gente si vede che l'ha apprezzato. Mauro Stecati, tra l'altro già sindaco di Magnano in Riviera. Allora, vediamo adesso quali sono i nuovi membri della Giunta che è stata ufficializzata proprio in questi minuti, possiamo dire. Sì, la Giunta vede riconfermato il vice sindaco Luca Toso, l'assessore Donatella Prando e l'assessore Marco Falcilia. E vede invece due nuovi ingressi, l'assessore Beltrame Roberto e l'assessore Silvia Fina. Ecco, la gara qui al voto per Tarcento vedeva correre tre persone, il vincente che abbiamo qui con noi, Mauro Stecati, e poi Riccardo Prisciano e infine Walter Tomada che quindi entreranno comunque in amministrazione, diciamo in assemblia civica? Sì, sì, certamente, sono stati eletti consiglieri comunali, come sindaci non eletti, fanno parte del consiglio comunale. E quindi adesso si attende il primo consiglio comunale e poi anche le deleghe, al momento le deleghe non sono state definite, o anche incarichi eventualmente particolari per qualche consigliere? Posso anticipare che il consiglio comunale sarà convocato martedì prossimo, all'ora 19, in Sala Margherita, perché Palazzo Frisipane è oggetto di lavori per l'abbattimento di barriere architettoniche, i lavori non sono ancora conclusi, per cui non è ancora agibile, diciamo così, non è ancora praticabile. Per quello che riguarda le deleghe, sono già definite dal punto di vista, diciamo, dell'impostazione. Adesso vediamo la dicitura perfetta, la dicitura precisa, ma comunque abbiamo già confermato, come le dicevo prima, tre assessori e quei due nuovi ovviamente che saranno inseriti, avremo oggi proprio la prima giunta, l'ora 17. Non sarà una giunta, non delibereremo niente, però sarà una giunta per conoscersi e per studiare assieme la metodologia di lavoro da affrontare per i prossimi cinque anni. Ecco, quindi una parte del nuovo assessorato Beltrame che arriva da Fratelli d'Italia. Sì, Fratelli d'Italia è stato fondamentale, come tutti comunque, perché siamo tutti fondamentali, ma comunque è stato fondamentale, con l'apporto dal punto di vista politico, per riuscire a vincere queste elezioni. Giustamente ha chiesto e giustamente era previsto che ogni lista esprimesse un assessorato e Beltrame Roberto è stato indicato dal capogruppo Andrea Pramoselli. Ecco, quindi adesso si continua a lavorare impegnandosi su quelli che sono i cantieri, le iniziative e i progetti già di fatto avviati, un attimo, insomma, così sospesi, tra virgolette, per le elezioni, tra cui uno degli interventi molto importanti di sostituzione dell'intera rete di illuminazione con lampade a LED, un intervento atteso dalla comunità locale da molto tempo. Sì, è andato bene, ci siamo candidati e ci siamo proposti alla gente, abbiamo avuto il consenso della gente nel segno della continuità e della concretezza. Il lavoro che lei ha menzionato, quello del rifacimento, dell'aggiornamento del piatto di pubblico e illuminazione è uno dei più importanti degli ultimi anni, ma non vorrei dimenticare anche i lavori che sono in via di conclusione del campo Vivanda, campo attrezzato Vivanda, e anche quello della realizzazione, i tempi sono un po' più lunghi, e che i lavori sono in corso, della pista ciclabile che unirà quella proveniente da Magnano Riviera con la frazione di Mulinis, per oltre 4 km. Ecco, effettivamente la realizzazione di un parco, di un'area attrezzata nel campo Vivanda è una tematica di cui si parla da anni, ma che finalmente, che non ha mai trovato concretezza, adesso finalmente si può attendere la realizzazione di questo progetto. Allora, ringraziamo il sindaco rieletto Mauro Stecati per il suo intervento, e qui da Tarcento è tutto. Grazie, grazie a Paola Treppo, in diretta da Tarcento, assieme a Fabio Di Bernardo, al sindaco. Noi ora ci fermiamo per la pubblicità, e poi ritorneremo in diretta per Avella Linea, tra poco. Bentornati in diretta da voi La Linea, ci richiede La Linea la nostra Isabella Gregoratto, che ha appunto seguito la conferenza stampa post-aggiunta comunale, e dunque a te la linea per ulteriori novità da Udine. Grazie Alexis, sono con l'assessore dell'attività produttiva e gli eventi della città di Udine, Maurizio Franz, perché oggi si è parlato di Natale, quindi la città per questo Natale ritornerà a rivivere. Praticamente tante iniziative che lo scorso anno per il Covid erano state soppresse, invece ritorneranno a essere proposte. Chiaramente se la situazione rimarrà come adesso, insomma, se non ci saranno problemi ulteriori. Sì, noi contiamo di avere un Natale pieno di luci e con molte iniziative che animeranno la città. Un gradito ritorno sarà la pista di patinaggio, che contiamo di riportare in Piazza Venerio, che era diventato un appuntamento tradizionale per tante famiglie, per tanti bambini. E poi le illuminazioni, accanto alle illuminazioni che saranno curate direttamente dai borghi e dalle vie storiche della città, ci sarà l'illuminazione che eseguirà direttamente il comune, ossia i palazzi storici della nostra città, Palazzo d'Aronco, Palazzo Morburgo. E poi il videomapping, che l'anno scorso ha riscosso un grande successo, del castello di Udine, ma anche di altre aree della città. Penso al Palazzo della Stazione, dove affluiscono tantissime persone, anche tantissimi turisti. E contiamo anche di riportare il mercato tradizionale di Natale, che è sempre un'occasione per fare acquisti, ma anche per stare assieme, in Piazza San Giacomo, che è una delle piazze più belle della città. E poi naturalmente le vie storiche, che saranno animate da Via Mercato Vecchio, e poi le piazze, Piazza 20 Settembre. Quindi in qualche modo saranno delle grandi occasioni per stare assieme, per godersi le festività del Natale e anche delle grandi opportunità per gli operatori economici della città, insomma, perché contiamo che appunto gli effetti della pandemia, visto che il quadro sta migliorando, vadano progressivamente a migliorare. In qualche modo ci sia un ritorno anche per tutti gli operatori economici della città. Comunque sempre si tratta di iniziative all'aperto. Vi siete già accordati con gli enti, con i commercianti, con gli artigiani, per poter organizzare al meglio il Natale? Sì, chiaramente tutte queste iniziative sono fatte e concordate con la Chiamine Commercio, con le associazioni di categoria, che ringrazio, e con i rappresentanti dei borghi e delle vie. Quindi ognuno farà la sua parte. Come dicevo, queste sono iniziative dirette del Comune di Udine. Poi le singole illuminazioni dei borghi e delle vie verranno curate grazie al contributo che ricordo sono 60.000 euro che sono messi a disposizione dal Comune per l'associazione per i borghi. Ognuno curerà gli allestimenti e le illuminazioni. E non mancheranno poi gli alberi di Natale, perché in Piazza Duomo e in Via Lionnello, davanti al Palazzo del Comune, ci saranno due bellissimi abetti donati quest'anno dall'amministrazione comunale di Tarvisio, che ringrazio. E poi contiamo anche di fare un progetto sui presepi, che adesso stiamo un attimo concordando con le proloquo del Friuli Venezia Giulia. Quindi penso che attorno al tema del Natale, della nostra tradizione, della nostra cultura, insomma ci saranno anche momenti di particolare interesse per i tanti turisti, i tanti cittadini. Un'ultima battuta, perché sabato sappiamo che sarà inaugurato ufficialmente il grande evento a Casa Cavazzini, quindi la forma dell'infinito. Come siete con l'organizzazione anche di iniziative collaterali? Beh, innanzitutto venerdì sera ci sarà la grande presentazione dell'evento al Teatro Giovanni da Udine. Grazie alle nuove disposizioni il teatro potrà ospitare più di mille persone, quindi sarà un grande momento di festa, oltre che di introduzione di questo importantissimo progetto. E poi tutte queste iniziative collaterali, perché grazie ai tantissimi sponsor privati, le più grandi realtà industriali e non solo, piuttosto che i commercianti e gli artigianti di Udine, che si sono attivati nel fare mille iniziative collaterali, ci saranno senz'altro delle opportunità per tutti, non solo di vedere delle opere uniche al mondo, ricordo che alcune delle opere che verranno esposte da Monet, a Gauguin, da Matisse, a Kandinsky, sono anche opere esclusive, nel senso che non sono mai state viste, perché vengono da collezioni private, oltre che dai più prestigiosi musei al mondo, ma poi ci saranno tutta una serie di iniziative, come dicevo, anche di serate, che verranno curate direttamente dalle aziende, con i loro manager, con i loro professionisti, e poi ricordo che ci sarà anche a Improsit, quindi ci saranno gli chef stellati, dal 20 al 24 di ottobre, qua presenti a Udine, quindi un'altra manifestazione di grandissimo richiamo. Quindi diciamo che tutte queste iniziative, in qualche modo, sono complementari e daranno un'offerta turistica eccezionale per la città di Udine nel mese di ottobre e anche nei mesi successivi, perché la grande mostra andrà avanti fino al 27 marzo 2022. Bene, ringraziamo quindi anche l'assessore agli eventi e le attività produttive, Maurizio Franz. Da Palazzo D'Aronco è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella al tuo ospite per questo collegamento in diretta da Udine. Torna invece a Pordenone con la sua edizione 2021 Sentieri Illustrati, l'annuale evento espositivo promosso a Pordenone dal Centro Iniziative Culturali Pordenone in omaggio all'illustrazione per l'infanzia, la forma d'arte che accompagna l'uomo dai suoi primi sguardi verso la vita. Si inaugura venerdì 17 settembre alle 18 nell'auditorium Lino Zanussi. Luca Novelli, scrittore e illustratore, a suo modo geniale, se non altro per essere l'autore della collana Lampi di Genio, arrivata quest'anno al suo ventesimo anno e tradotta in più di venti lingue. Ecco, la qualità del lavoro di Novelli è dovuta innanzitutto al fatto che lui sa mettere bene assieme la parola, il linguaggio verbale e l'illustrazione. Il linguaggio verbale di Novelli è sempre molto semplice, piano, divulgativo, diretto al pubblico dei bambini e direi anche dei preadolescenti, mentre le illustrazioni che accompagnano le definizioni o gli scritti ecco che in qualche modo rafforzano il concetto, rafforzano anche la memoria e la comprensione di quel dato concetto, magari è appunto non sempre semplicissimo ma con un approccio semplificato e per di più aggiungono una componente che lo stesso Novelli dice segreta, che è lo humor, l'umorismo che in qualche modo ci rende amichevoli i contenuti e in qualche modo anche rende ai bambini i protagonisti della storia della scienza quasi dei compagni di gioco. Un'illustrazione particolarmente efficace secondo me si trova ad esempio nel dizionario illustrato di scienza. Alla voce diversità troviamo ovviamente la definizione verbale del concetto ma poi anche un'illustrazione particolarmente significativa. Un ipopotamo ha sul panno della mano un piccolo uccello che improvvisamente esclama ma siamo diversi e l'ipopotamo ha di risposta sì ma ciascuno ha le sue doti. Ecco quindi un concetto espresso attraverso un'immagine che dovrebbe essere fuoco in meditazione anche per la specie umana. A voi la linea termina qui ma vi ricordo il prossimo appuntamento con il nostro telegiornale in diretta alle 16.30. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.